Il caschetto, cioè la divisa, il baton e i biscotti che sono bravo. Prendi i biscotti! Ok. I biscotti sono la base del nostro armamentare di polizia. Allora, le regole per noi quali sono? Non mi ricordo più. Dovete cosa dobbiamo fare? Devo stare in chiamo ad uno. No, nel senso che cosa dobbiamo fare noi? Eh, cacci tesoro come gli altri. Ah, cacci tesoro come gli altri. Solamente che noi non possiamo prendere la corona. Ma, fuck, ma... I due partecipanti qua abbiamo... Non salve! Eeeh, che bello! Sei più famoso di Gabby. Yeah, che bello! Non ho neanche un canale. Iscrivetevi, seguitemi su Instagram. Sui... Sui... Isk... 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 Allora, partiamo subito. Partiamo subito pronti a far esplodere il mio server? Bam! No, perché... Pronti, perché... Ecco... Aspetta, scolo... Francesco, puoi Ale. Puoi Xplayer 11. Mi è incredibile. Guarda quanta gente. Cane spritz, Caesar, Matt. Con la corona, guarda. Ma, ma... Ma è un cheater. Ma è già in vantaggio. Oh mio Dio, siamo in 30 tra un po'. Tra un po' saremo in 30. Ti, 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 ti. Il mass... Siamo già al massimo? Siamo al massimo? Siamo al massimo? Siamo al massimo? Ma... Eccoli che partono. Guarda quanta gente. Siamo quasi in 30. Oh mio Dio! Siamo... Grazie a tutti. Grazie. Chi è che sta premendo pulsare? Per iniziare la caccia andate alle poste nel villaggio di Eclipse, subito! Vai via via, come on, come on, come on! Tutte le poste! Allora, la caccia inizierà breve, buona caccia a tutti, grazie! Cos'è sta roba? Livello 2? Cos'è il livello 2? Vedete le poste sono qua, vedete, caserma e le poste sono là, là sopra. Ok. L'abbiamo in assoluto del villaggio, dobbiamo prendere la metro, tecnicamente. Ah, ok. Non la metro nel senso... Ogni 20 minuti ci terranno un aiuto, giustamente. Oh, meno male. Ma sarà... Siamo in 34, siamo in 34. Dai, fateci partire! Ma aspetta, io e voi due, bisogna collaborare, quindi collaboriamo. Sì, lo so, infatti, seguite quello... Io sono l'ominio e del blu, mi vedete? Ma dove, come si va via? Come si va via? io sono la caserma alla caserma da dove vado dalla caserma e vivo nel mare ma in questo mondo mi vedi volare aspetta sono rotonde vivo nel mare vai a prendere l'indizio cos'è che vola su minecraft no cosa che vola nella mia mappa ci sto pensando che vola nella tua mappa aspetta non è non era in questo mondo che abbiamo attaccato uno squid arrivo 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 ma qua ci seguono ci stanno truffa isaac indizio 2 scusami compra da banana ok ci sono a una banana scone 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 vabbè io vado a piedi fai lo scuco andiamo 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 via 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 andiamo in blu non riesco a scendere le cose di banana avete preso anche voi le mele io la mila non ce l'ho però ho letto che c'è la scrittura cosa parata vediamo come funziona attenzione tutti i partecipanti dovranno vabbè vabbè l'importante che ce l'hai anche te isaac vendimi comprami cos'è che preso su banana sel fate che arrivo ci sono dove il negozio di banana eccolo qua ok ho venduto questo e devo comprare un indizio ok ho comprato il terzo indizio qual è l'indizio ok il luogo dove il re comandò l'armata ormai distrutta il nostro caro castello cosa dove il re comandò dell'amicizia asia vogliamo un biscotto la visita per come faccio a dare un biscotto l'amicizia allora indizio 3 il luogo dove il re comandò l'armata ormai distrutta sai che cos'è secondo me è una quasi di raccino e mettere sempre lì ok si è lì a blu ria blu ria blu ma si va ricostruita più o meno poi chiusa non si può entrare io controllo di sopra mezzo agli alberi magari casa si mette qui una volta c'è la casa di me ottimo la casa è barricata con tutta lana nera fare strano vai a fare shopping wait non è che vai a fare shopping è un indizio perché questo cartello quando credo abbia molto senso qua vai a fare shopping non è che deve andare al centro commerciale credo dove lo vedi vai a fare shopping alla vicino agli alberi c'è questa costruzione qua che da sul bordo della zona di come dire che è circondata da è queste redstone torch che non mi convincono e anche un po e ma anche perché c'è chi si è in sua che tutta questa roba qua 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 non c'è niente ci sono minuti costo tanto per questo beh anche perché qua aspetta quinto non c'è ben girato ma qua non c'è niente che mi sa che bisogna andare a fare mi sa che vai a fare shopping ma credo di sì anche perché ripeto quando si può entrare ancora trovato le poste buona fortuna qua ci sono le regole a meno che guardiamo dietro gli alberi non so magari non hanno imboscato qua qualcuno in mezzo magari sulle foglie o altro ma non credo pare strano però vabbè io vado a fare shopping a questo punto ma c'è il signor patata che ci segue dove face il signor patata a me ma tanto tanto allora ma di che ci segue vabbè tanto tanto per per vincere il la corona dove avere tutti gli indizi quindi finché ci segue aspetta abbiamo guardato dentro le ceste no magari ci sono delle ceste shopping andiamo al centro commerciale avete trovato qualcosa per l'indizio viene allora per l'indizio vini visitare il mio negozio isaac signore ho perso il mio indizio grazie ora due indizi cosa ho due indizi vieni a visitare il mio negozio dov'è il tuo negozio isaac e questo andiamo al centro commerciale modo quel gancio la super bruttissima ma sono già 100 commerciale dove si è commerciale al comodo per l'indizio vieni a visitare il mio negozio è dove il tuo negozio per l'indizio vieni a visitare il mio negozio qua c'è la tua testa isa quindi presumo sia questo ha capito quello di trovare un secondo piano ma questo questo è ma io sono bellissimo andiamo secondo piano è di andare secondo piano a cercare un secondo piano ok ok andiamo dobbiamo cercare la cina mi salve gran bella 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 che mi piace dobbiamo cercare off nix eccolo vai a trovare okami al bar dobbiamo trovare un bar aspetta qua cos'è bar sono lì in teoria di sotto di sotto di sotto di sotto di sotto come di sotto sa che sono sotto anche anch'io però quando lo spawn ecco che ho letto a tu cami vai a trovare stito e sotto l'albero che è qui rega sono qua sono la parte sinistra qui qui è qua dentro cami eccolo qua è vero sotto l'albero sotto l'albero che non ok dove stiva steve dove stiva guarda qua guarda qua che tra i veri dove sei c'è un albero c'è un albero c'è un albero ma dov'è dove siete qua 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 dove sei vivi qua 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 ecco i trollerini vai a trovare vai a trovare lì in fondo a questo tunnel ma non c'è scritto è un capo non vorrei sperava via cos'è ma poi aspetta che sta caricando ma ma aspetta ma effettivamente salve nel villaggio mi puoi trovare nel villaggio mi puoi trovare è un posto dove puoi lottare all'arena andiamo andare all'arena dove andare all'arena c'è base di rapture e negozio banane quale dobbiamo prendere per andare a questo questo guarda sopra villaggio formaggio da questa parte ok di qua ok andiamo andiamo allora e i e i l a a villaggio formaggio eccolo qua andiamo 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 ci sono altre lettere qua dietro non lo so ma te che arriviamo ma sposa che arriviamo aspetta che arriviamo aspetta che aspetta e i e i forse dobbiamo prendere un anagramma a no che ma che ma che da gramma è più facile del previsto basta seguire la freccia a e ancora con l'arena o alieno alieno quindi l'alieno quindi disco volante credo di sì quindi dov'era non l'avevo distrutto usciamo mi dispiace in di sempre arrivato alla caserma la caserma ok sono alla caserma credo di sì dobbiamo vedere aspettiamo quindi è vero quello sì dove sono un uomo o c'è la giraffa e c'è della gente o madò sono già arrivati o no no cacchio ma siete sicuri che stiano cercando il tesoro come è possibile che siano così veloci scusate lasciate passare ma se invece la gente possa entrata qui per curiosità e ha trovato un indizio senza andare saltando esatto poi vediamo scusi scusi gioca gli scusi certo non si può entrare come si può entrare dice che non si può no riporta questo riporta questo un suo commissario rex al commissario rex è stato dove hanno chiuso la strada infami gravi fame bravo steve ok al commissario rex alla caserma la caserma ok devo darlo al cane o a chi devo darlo aspetta stazione della polizia provo entrare commentare provo dallo cami aspetta dobbiamo dare lato cami bucato dal locale che non essere accorto e ciao cami quindi c'è ma mi sono attentissimo di una riloso inizio c'è l'indizio c'è dato altri indizi qualcuno non mi passa l'indizio si trova in fondo al mare dove i pesci piace nuotareare si trova in fondo al mare dove il pesci piace non è che dobbiamo tornare di nuovo alla zona lì al castello non credo c'è un si tempolo qualcosa c'è l'acquario c'è un acquario ma vai via potrebbe essere un acquario domini guardoni andate via dopo il pesci alla seconda inizia ok aspettate da wait quindi dove i pesci piace nuotare o ecco l'ultimo indizio da trovare si trova in fondo al mare dove i pesci piace nuotare c'è qualche si tempolo qualcosa qua non lo so aspetta acquari acquari non credo ma ma dei testi guardoni andate via la spetta la paparazzi ma ho detto ma è via fare delle balle ci piace nuotare il posto del re e ma i pesci corre non ha senso no no è perché sono sotto a la porta le balle via guardone aspetta 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 c'è un laghettino mi dispiace ma davide è stato squalificato noi forse ho trovato qualcosa ecco ci sono dei coralli provo a vedere è vero quanto in mezzo i coralli ma ci sono le lanterne le lanterne sparano spawnano a caso messi di lantern no no allora le hanno messe ok aspetta 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 dove siete dove siete dove siete nel lago di misteri ci dovrebbe essere la base degli ingegneri ma non c'è non ci sono pesci ragazzi ci ho trovato delle mappe delle mappe cos'è questo posto qui c'è una ceste in mezzo al lago al lago al posto vicino alla torre dove siamo andati noi ok dove siamo andati per super rapture ok ok qui vicino c'è una ceste e dentro la ceste ci sono quattro mappe mappa 5 5 5 4 6 2 6 5 5 5 per le rune livello ok ma io comunque controllo al lago tanto siamo siamo sempre puntata da me ci sono delle lantern ma dov'è che sei te è il fatto di aspetta un attimo forse è quello forse questo dove sei sì 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 ma che infami ma che infami indizio trovato è trovato ci sei perfetto cos'è che c'è scritto ospè spè che sto profondo che non mi sposti se abbiamo avuto e va bene ma sempre più lungo il testo allora io sto cercando di legge come facciamo a leggere col testo chilometrico non si legge ma la pena allora se la corona vuoi trovare un lungo viaggio dovrei affrontare vicino ad isaac dovrei sotterrare al cimitero 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 che tempo fa melignano tutto toro 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 tutto aspetta il punto preciso in cui andare isaac è bello forse è lì che dobbiamo dare un l'hanno fatto loro gli altri no 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 la fate fa ma quello lì siamo venuti vicino al villaggio dell'eclipso bene come non abbiamo messo un solo blocco in tutta staccato io voglio andare a vedere aspetta la vita ragazzi cosa ho trovato la lapide di lì 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 sì è creepy come cosa dove che sei sono solo nell'oscurità aspetta vediamo un attimo se riesco a trovarvi non so la mia lapide ho trovato ho trovato anche la tomba di okami di okami oh mio dio è creepy come cosa oddio ok no ma questo qua non siete voi aspetta ho trovato due tizi che sono nella tomba di isaac no cosa due tizi sono qui alla torre della tomba di isaac no qui qui isaac dove sei isaac qui 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 mi vedo qua qua c'è la tomba guarda è vero è vero ma fate schifo cosa stai facendo indy guarda qui ok ci sono ok ci sono ok quindi non sono io un pirma prima però va bene ma no è un labirinto ma la gente ci sta sì ma la gente è arrivata qua perché ci segue io di tanto in tanto provo a scettare perché magari trovo un ascensore nascosto e appunto ma vaffan bagno sono risalito ancora sciocco che sono ok ma è strano non tocco nulla ma strano però che quando ci sia niente non è che per caso non è che per sbaglio hanno messo l'ascensore tutte le librerie ha provato da quito no io l'ho premuto non le matri di io devo andare dove cose più mutuo e nini così è premuto isaac sì 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 perché lo sapevo perché dove levati 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 io lo sapevo stadi cosa ha trovato la corona ha trovato la corona ha trovato la corona come quella magia nera ho trovato la clai prima hai premuto qualcosa e ora praticamente quello che dobbiamo fare è guardare il primo che arriverà la corona in modo legge ma come ci sei arrivato alla corona c'era un pulsante sul soffitto lo sapevo lo sapevo ma in isaac ce la sta citando aspetta indi ma avete fatto entrare cacabulla senza volerlo e vi ha chiuso fuori dove ma da dove si entra l'hai premuto guardalo guardalo che fare e continua a premere guarda come se fosse una scimmia che vuole da mangiare bisogna correre ma dai e allora dopo che lo premo dove si fa premio premio e corri qua occhio dai dai che ci sei quasi no l'ascensore è qua dai dai qui ecco lo fire sono entrato ma è entrato grazie a me è entrato grazie a me ok ma è entrato grazie a me non so se l'egit com'è che entriamo sotto ghiaglia come ci entriamo di sotto acqua e cosa grazie coso grazie che si inizia un coso ovviamente noi non possiamo prendere la corona perché siamo già dei lupi del regno siamo dei poliziotti esatto vediamo se fire solo ai requisiti per vincere ma non so sai perché è entrato grazie a me alla fin dei conti si mai si arriverà steve dire fuori no questo qui non può entrare non può avere perché hanno una vicata tutti di situazione più tardi fa ecco da 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 via vai bravo voglio rewind cazzo tuoi cazzo tuoi cacabu e ciao igor gg permette adesso fatelo trovata io la corona ma davide non rompere le palle gg matt gg matt gg allora ok 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 Grazie.